Anch'io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa giornata impegnatissima, faccio anche io riferimento attualmente alla relazione di Fontanelli e faccio qualche considerazione finale, provvisoria perché ovviamente il tema non finisce qui. Allora intanto voglio dire che sono abbastanza orgoglioso che in momenti nei quali basta leggere i giornali prevale la chiacchiera o il gioco delle dichiarazioni, un partito come il nostro, che è un partito di governo, si sia impegnato e si stia impegnando su un problema basico per gli italiani. E credo che dobbiamo tenere, questa è la cosa la prima e forse la più importante che voglio dire, cioè noi dobbiamo assolutamente tenere il profilo di un grande partito popolare che conosce bene quali sono i problemi che la gente vive e che conosce anche bene come la gente li percepisce, perché spesso non li percepisce esattamente come li percepiamo noi. E quindi anche noi abbiamo bisogno, mentre ribadiamo le nostre convinzioni, di tenere molto l'orecchio a terra perché gli orientamenti in questa fase sono molto molto mobili. Ora è chiaro che noi non saremmo a questo punto, poi lo si può raccontare come si vuole, ma non saremmo a questo punto se non fossimo nel pieno della più grande crisi che il nostro Paese, forse l'Europa, vive dal dopoguerra ad oggi e se non fossimo dentro a un generalissimo processo di cui dobbiamo tenere conto. Che è nato qualche anno fa, ci accompagnerà ancora, credo, per non poco, e cioè una crisi sostanzialmente derivata da un rigonfiamento di un debito privato, da una bolla che non è stata solo finanziaria, perché purtroppo poi ha provocato anche sovraccapacità produttiva. La bolla esplose è caduta sulle finanze pubbliche. Dalle finanze pubbliche è andata a scaricarsi, spesso e volentieri, su welfare, occupazione, con una crisi di domanda molto forte e con un avvitamento che ci consegna, anche sul piano politico degli orientamenti, un'instabilità molto 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 forte. Conosciamo la nostra storia dentro questa vicenda, siamo arrivati lì largamente indeboliti, sui punti principali dopo dieci anni di sgoverno della destra, che poi ci ha aggiunto anche nelle ultimissime fasi qualcosa di suo, non avendo dato prova di nessuna attitudine a mettere le mani nei problemi strutturali, della sanità, lo ricordava Rossi, per esempio, ma non è la sola cosa, scomparsa totalmente la discussione, da un impegno di adeguamento. E quindi all'ultimo momento, in assenza di riforme strutturali, ci ha regalato un fatto da fenomeni, cioè un pareggio di bilancio del 2013, e una serie di spine messe lì come bombe e orologeria, compresa questa questione qui dell'IVA, che arriva. Io, prima cosa che dico, attenzione, non mettiamo in contraposizione sanità, l'IVA è un disastro per i ceti popolari, è chiaro, è un disastro per i ceti popolari. Abbiamo già visto, basta fare un giro nei supermercati, ogni tanto che ci riesce, e sentire cosa pensa la gente, l'andamento dei prezzi, l'andamento dei redditi, e così via. Ora, è chiaro che in questo clima, con questa pressione enorme, non arrivano solo taglio, botte, eccetera, ma rischiano di saltare anche dei modelli. Adesso noi parliamo di sanità, ma se parlassimo di trasporto pubblico locale, non è che fa molta differenza. O anche se andassimo a vedere, magari in termini non così drammatici, ma il sistema della ricerca. Cioè ci sono dei sistemi che vengono messi, senza dichiararlo, ma in discussione, perché ci sono dei sistemi che sentono, certo, appesantiti anche da vecchiezze, da inadeguatezze, per l'amor di Dio, ma si sentono sull'orlo dell'insostenibilità come sistema. Innanzitutto agli occhi dei cittadini, perché quando poi un sistema non risponde, è chiaro che perde credibilità, perde ragione d'essere. E questo avviene non col fragore di rivoluzioni che saltano gli ospedali, e cose, eccetera, avviene mediamente per la creazione di meccanismi paralleli, perché poi l'acqua con le mani non la fermi, va da tutte le parti, impoverimento alla risposta pubblica, cadute di credibilità, sfiducia ai cittadini, perdita di senso della grande intuizione che ci portò a un servizio sanitario nazionale, o un'idea italiana di trasporto pubblico locale, e così via. Ora, poi, adesso noi l'abbiamo detto in una discussione, ci siamo detti e ci diciamo, e diciamo, facciamo bene a dire naturalmente, che se stiamo a un confronto fra modelli, servizio sanitario, base pubblica, rispetto a modelli assicurativi che abbiamo nel mondo, mostra delle performance superiori, in termini di rapporto costi-benefici. Si possono fare i conti in mille modi, ma insomma, grosso modo, questa è una verità, se la consideriamo in particolare nella composizione fra spesa pubblica e privata. È un ragionamento giusto, ma che non risolve, non commuove più di tanto. Non c'è nessuno che dichiari, alzo la mano, dice, voglio passare a un sistema assicurativo. Non c'è nessuno. Neanche nella destra. Negli ultimi 15 anni, tutte le rilevazioni dicono che anche gran parte, l'opinione pubblica, che vota a destra, eccetera, se gli parli di servizio sanitario, non vogliono cacciarsi in avventure particolari. È un ragionamento quindi giusto, ma non è sufficiente. Perché abbiamo sopra la testa, e questo comincia ad arrivare nell'opinione, è una questione sistemica che ruota attorno a un oggetto particolare, che si chiama finanza pubblica, servizio del debito. È quindi una lunga fase dove il tesoro comanda più da noi, sicuramente, fino a livelli anche in vere combi, secondo me, ma insomma, un po' dappertutto. Ora, e in queste fasi può succedere quello che è irrazionale. Anche che ti risulti via via smontato un servizio che mostrerebbe di funzionare meglio di un altro. Così come quando uno è attaccato su così e può dar via l'argenteria per due euro, perché ha bisogno di quei due euro, non perché l'argenteria valga due euro. Quindi, questo lo dico, e a questo poi si aggiungono, quando succedono queste fasi, si aggiungono tutte le cose ideologiche a servizio, no? Cominciano ad arrivare i ragionamenti semplificati, che vogliono arruolare l'opinione pubblica per non andare al cuore del problema. Il cuore del problema, adesso ve lo dico in chiaro, quale sarebbe. Il cuore del problema è, ma noi decidiamo di tenere almeno una quota del PIL sul servizio sanitario pari al 7, eccetera. Abbiamo deciso così? Non è una scelta da poco, perché è chiaro che tutti potrebbero rivendicare una cosa del genere, ma in realtà c'è una parte del PIL che riguarda, sul PIL che riguarda il servizio al debito, che va su. E quindi in giro tutti gli altri qualcosa devono smenarci, perché quello non puoi non pagarlo. Poi puoi decidere che di tutti gli altri settori ne scegli uno, due, e dici questi non li faccio andare, li ristrutturo, non li faccio andare sotto soglia. Oppure puoi dire, li lascio a seguire l'andamento del PIL, che l'anno prossimo calerà del 05. Ma questo non è il ragionamento che viene fatto, perché l'oggetto non è arrivato così. Viene sparso un'ideologia arrendevole, che è appunto la siringa, non che non abbia, lo sappiamo, sì, c'è del vero, ma non è che puoi giudicare un sistema, faremo costare meno ste cavolo di siringhe. Cioè, no? È come con l'idraulico polacco, che ci hanno rotto le scatole, ma guardate che l'idraulico polacco ha portato, è stato lo slogan, la mosca cocchiera sloganistica di un cambiamento delle opinioni pubbliche micidiali in Europa. Sull'idraulico polacco, chi ha visto un idraulico polacco in giro? Però... Non abbiamo visto un idraulico polacco. E quindi arrivano queste ondate, no? E quindi noi adesso dobbiamo capire anche, intanto ristabiliamo dei punti basici del nostro messaggio, insomma. Intanto, richiarire cosa intendiamo per universale, perché poi... Che per noi, nella nostra visione utopica, utopica, davanti a certi bisogni, non ci può essere né povero né ricco. Questo vale per la salute, vale per l'istruzione, e vale per la sicurezza. Dico utopico, perché capisco, figuriamoci, eccetera, però, come il grande filosofo che si occupò di queste cose, dice, ma l'utopia serve da parametro per avvicinarsi. No? Quindi, diciamo, forse più elasticamente, più semplicemente, che per alcuni sistemi, noi non accettiamo che sia il mercato a guidare la danza. Mentre, in tanti altri settori economici, siamo invece quelli, contro le corporazioni, contro le posizioni, eccetera, dove invece il mercato deve poter funzionare bene, e come si dice, a bevuta pari. Questa è la nostra idea di società. Quindi siamo affezionatissimi ad alcuni sistemi, poi facciamo come possiamo anche noi, ma siamo affezionatissimi ad alcuni sistemi, la sanità, l'istruzione, che devono raffigurare questa ispirazione universalistica. Ora, se è questo, sappiamo bene, fra noi, poi ce lo stiamo dicendo, tutt'oggi che ci diciamo in modo implicito sta cosa, che può essere la situazione, possono essere gli altri che portano il sistema fuori binario, fuori strada, ma possiamo essere anche noi, che lo rivendichiamo, se non vediamo le curve che ci sono su questa strada qua. e se non abbiamo il fisico per affrontarla, e quindi per dare innovazione e sostenibilità a questo sistema, che è un problema concettuale non da poco. Se io non faccio tutto, riprendo tutto il che, è un problema concettuale non da poco. Quindi noi, se accettiamo di ribadire questo concetto universalistico, dobbiamo sfidare noi stessi ad essere gli specialisti della sostenibilità di un sistema universalistico. Ora, accettiamo dunque la sfida, no? Che non è che ci venga neanche posta, ce la diamo un po' da noi, francamente, come dirò. Accettiamo la sfida, noi dobbiamo ripensare questo sistema, ripensare questo sistema, se non vogliamo che finisca per via estranea affidato al mercato. E qui c'è un punto, è chiaro che riformulare, rileggere, riposizionare, riorganizzare il sistema significa, in un sistema universalistico, a responsabilità pubblica, si parte dall'offerta. Poco da fare, perché, dal lato della domanda, per amor di Dio, puoi avere dei meccanismi, diciamo così, che facilitino il percorso, che accompagnino, io per esempio, se avessi, se lo dico chiaro, se avessi un sistema fiscale decente, meccanismi di compartecipazione, ben classificati, articolati, calibrati, io credo che, per dirne una, se avessimo un sistema fiscale, con delle basi dati, inequivocabili, no, che mi consentissero elementi di progressività, di mutualità, non avrei, no, non avrei timori di questo genere, sappiamo bene, che c'è una domanda, che è da suscitare, c'è tanta gente, che non si cura, per amor di Dio, dopodiché, sappiamo bene, che in questo campo, la domanda, una volta espressa, è praticamente, irrefrenabile, inarrestabile, eccetera, quindi dei prezzi, delle responsabilità, dal lato, di una offerta, appropriata, e qui, significa avere idee chiare, ma avere anche grande determinazione politica, perché tre quarti delle cose che ci siano detti, sono noci da rompere, micidiali, sistemi di relazione, organizzazione, facciamo mica che sia facile, cioè, e quindi, le strutture organizzative dell'offerta, intanto, già, prendiamo atto, perché io sento poi, anche nell'opinione pubblica, che c'è qualcosa che si muove, questo proposito, da stare attenti, cioè, anche, al meglio, delle nostre esperienze, stiamo dicendo, che noi, abbiamo un servizio, che prendiamo dal lato dell'offerta, che per definizione, deve essere un po' inferiore, alla domanda potenziale, che cosa, eccetera, che quindi deve avere, delle logiche, delle scelte, dei no, dei tempi, delle selezioni, delle cose, delle code, un serie di cose, che poi le farai telematiche, o fisiche, ma le code sono sempre code, è l'idea di scarsità, rispetto, e di selezione, no, a chi lo do per primo, dice Fioroni, poi alla fine, è questo, ecco, questo già significa qualcosa, un po' nell'opinione pubblica, perché, insomma, con i tempi che passano, che corrono, che, che, insomma, l'idea di essere, così, imbrigliati, in meccanismi burocratici, in meccanismi dirigistici, l'idea che qualcuno ti rubi il tempo, che è diventata una cosa preziosa, l'idea che ho, cioè, un certo rancore, diciamo così, dell'utente, salvo proprio quando non gli salvi la pelle, perché allora, gli salvi la pelle, nei confronti, in una struttura che seleziona, lo fa, lo organizza, eccetera, questo lo dico perché dovremmo avere massima attenzione, questa cosa qui, se vogliamo un servizio universalistico, il rapporto con il cittadino deve essere decente, dal punto di vista, ormai, della modernità, di come uno si aspetta di avere, di interloquire con un servizio, e sapere anche che, sì, se è così, maneggiare meccanismi integrativi, con la pulizia concettuale, come ricordava Vasco poco fa, è tutto condivisibile, poi alla fine non è così semplice, perché, alla fine, piuttosto di stare lì sei mesi, aspettare una roba, uno paga e va, anche se non è ricchissimo, quindi, io dico, attenzione, quando pensiamo alle nostre pensate, insomma, c'è poi un cittadino là, che deve vedere che migliora, non dico che ha il perfetto, ma che migliora qualcosa, dal punto di vista, un minimo di un rapporto amichevole, fra cittadini e servizi, in termini di informazioni, in termini di tecnologie, se andiamo al merito, i titoli li abbiamo visti tutti oggi, non li elenco neanche tutti, allora, prima abbiamo, mi pare che ci sia conclamato, un problema di governance del sistema, nel rapporto fra dimensione centrale, e dimensione regionale, su cui ci sono stati dei passi, ma diciamolo pure, non è appunto, non è appunto al punto, adesso ci tornerò su, e questo adesso ci torno, Ministro, cioè, che siccome, come ci ricordava Bisoni, la cosa che si è messa a posto è, chi paga, se ci sono inefficienze, paga il cittadino dell'Asio, paga il cittadino della Sicilia, quella che non si è messa a posto è, come si evitano le efficienze, perché se si è acconciato fin qui, qualcuno a far pagare i cittadini, può darsi che si acconci anche domani, e che quel cittadino, dopo tutte queste belle cose qua, che continui a pagare di più, senza che ci sia la risposta, quindi noi dobbiamo andare alla sostanza del problema, ma come facciamo nel progress a garantire, regioni e Stato, che quegli elementi di spreco, di razionalità, effettivamente finiscano, questo è un problema non risolto ancora, non c'è dubbio, bisogna inventarsi qualcosa, che stia nel quadro della Costituzione, non è che possiamo ammetterci, abbiamo già tanti carri costituzionali, fermi eccetera, ma bisogna che la regione Stato si inventino qualcosa, per dare un po' più di efficacia a interventi sostitutivi, adesso mi diceva, per esempio Molise, non lo so, non lo conosco, ma questo è un punto, c'è poi il tema di merito, appunto, una volta, con una governance più efficiente, affrontare meglio questi temi della propria tezza, qui sono anche qui, allora i territori, la prossimità, gli ospedali, grandi e piccoli, abbiamo detto, non è quella la cosa, sapendo che quando affronti sto tema, un minimo di investimento deve esserci, perché non è che puoi andare là con i carabinieri, no, perché sulla salute non vai là con i carabinieri, se gli chiudi una cosa, gliene prometti un'altra, non è che puoi ripassare da lì dopo tre anni, non c'è quell'altra e addio, quindi ci sono, c'è un minimo di possibilità per ristrutturare, per cose ci vuole, mettere in mani cose difficilissime, quando dicevo non sono rose e fiori, la pletola delle unità operative, mettere in mano dentro gli elementi di consumismo, diagnostico, dei farmaci, che ci sono, via, mettere in mano questo tema, benedetti costi standard, ma almeno sul tema dei prezzi di riferimento, avere delle cose che non siano campate per aria, che derivino da protocolli, dove ci sia gente che sa che cosa si sta per aria, che tenga in conto la varietà della situazione, le tecnologie, c'è da un lato, non so, non mi ricordo più che lo diceva, forse Vasco, eccetera, qui incombe un'esigenza di investimento micidiale, per stare all'altezza delle cose, perché c'è una ricerca che si combina col business, e quindi c'è un'offerta di tecnologie micidiale, e noi sappiamo, però c'è anche determinare un po' la scarsità di queste tecnologie, perché abbiamo detto mille volte, a differenza con una fabbrica, che tu metti in fabbrica una macchina, risparmi di spesa corrente, nella sanità metti una macchina, e aumenta la spesa corrente, perché poi alla fine la domanda, la domanda cresce, e qui il caso proprio, il vecchio Mars, che diceva che è l'oggetto che crea il bisogno, c'ha proprio nella sanità, c'ha proprio beccato, non so se su questo c'ha proprio beccato, insomma. Gli apparati amministrativi, lo si vede a occhio, francamente, cioè anche così, a volo d'uccello, si vede a occhio che noi abbiamo lì un problema nel quale mettere mano. Il tema del rapporto con l'università, l'università e i rapporti con la programmazione, ne abbiamo parlato forse poco, il sociale, non solo nel meccanismo, diciamo così, della struttura organizzativa, programmatica e così via, ma anche dal punto di vista delle risorse, io l'ho detto al Presidente Monte, vorrei capire qual è la teoria economica che fa sì che, che può giustificare il fatto che, ultimo governo Prodi, non c'era la recessione, c'erano due miliardi e mezzo sul fondo sociale, Berlusconi, è che non li ha tagliati i monti, ma insomma, siamo in piena recessione, la più grave del dopoguerra, il fondo sociale è zero, cioè non c'è teoria economica che possa succedere, perché quando c'è una recessione bisogna che ci sia, quindi non volevo che passasse questa nostra discussione senza anche un cenno su questo punto, perché, e qui cominciamo a entrare anche in un tema che riguarda le autonomie locali, che hanno gli sportelli sociali ormai, no, adesso fanno fatica a fare i centri estivi, fanno fatica a fare delle cose che sembrano banali, ma sono cose che tengono assieme anche una comunità, cooperative sociali che saltano, cioè, una preoccupazione non da poco. Ora, se questi e altri sono i problemi che abbiamo davanti, e anche le opportunità di cambiamento che abbiamo davanti, via, parliamoci onestamente, insomma, ci siamo andati all'incrocio, abbiamo messo all'incrocio un tema di emergenza con un tema che abbiamo chiamato spending review, che come è noto, non è tanto la spesa, è la rivisitazione dello spender, del modo con cui spendi, e quindi presupporrebbe, presuppone, un percorso organizzativo e riorganizzativo. Ora, io chiudo sul punto che abbiamo davanti, è un punto di rimenti, insomma. Ministro, la questione la riassumerei così. è vero che lì dentro ci sono degli obiettivi dichiarati razionali e in alcuni c'è la razionalità, spesso c'è una razionalità claudicante perché non tiene conto di diecimila questioni, spesso forse non c'è neanche tutta questa razionalità, posti letto, eccetera. Ma, insomma, che norme che alludono anche a delicate questioni che potranno essere di contenzioso. Ora, tutte queste cose ci sono, ma vengono organizzate in una forma che è a monte, fa riferimento alle quote d'accesso sostanzialmente del fondo sanitario, quindi in questo senso è lineare, con una pressione che è più forte, risulterà più forte sulle regioni virtuose che sono quelle no, perché, ripeto, quelle no, non credo che si prenderanno, non è detto che si prenda la briga. Allora, è questo che io dicevo quando ho detto con una battuta, qui viene fuori come gli esudati, non nel senso che qui ci siano degli esudati, nel senso che alla fine può esserci più confusione che risparmio una vicenda così. E quindi, io credo che le cose che il Ministro rivendica, che è il patto della salute, resti l'unico punto, tendiamoci bene, se questa vicenda qui, dobbiamo dominarla un po' tutti, perché io non sono per fracassare tutto, però, se come dei birilli una vicenda del genere fa venire giù il rapporto Stato-Regioni, fa venire giù il patto per la salute, vengono giù, come ricordava Vasco, un certo numero di altre cose qua. Vengono giù un certo numero di altre cose. E quel tanto che si è fatto in questi anni per governare il sistema riducendo anche le risorse cercate nell'impiede eccetera, è stato fatto attorno a quell'intuizione fondamentalmente. Allora la domanda è come facciamo a recuperare questa cosa qua? Qui, come dire, si accettano idee, ecco, io penso che per quel che riguarda noi, noi ci impegniamo naturalmente con l'aiuto, il concorso, la riflessione di chi ne sa, chi c'è lì, nelle regioni nostre e così via, a vedere per quel che riguarda questo 2012 di rispondere in modo il più possibile razionale a questa emergenza. io credo, dico francamente, che in questi 15 giorni, questo momento, perché noi non è che abbiamo tantissimo tempo, io credo che vada ripreso certamente col Ministro della Salute, io credo anche col Tesoro, una discussione con le regioni. perché, lo dico per la questione sistematica, perché guardate, il Parlamento, noi è chiaro che la nostra parte la facciamo, però il Parlamento, adesso fatemelo dire così, c'è anche la PDL che la vedo più impegnata sulla Rai TV, che sul, no? E io per parlare chiaro, non è che noi abbiamo la maggioranza in quel Parlamento. Allora, qui siamo in un punto molto delicato, non vorrei il punto più delicato che ci fosse una rottura, prescindere da quel che poi avviene in Parlamento, ci fosse una rottura di tipo istituzionale che alla fine non rende governabile questo processo, bisogna saperlo, bisogna saperlo. Allo stesso tempo chiedo alle regioni a cominciare dalla nostra, che si mettono seriamente, come si è detto qui, a ragionare come potrebbe essere congegnato un patto della salute, poi vi dico riferimenti basici, poi c'è tutto da cambiare, ma insomma, stiamo parlando della quota sul PIL, stiamo parlando della quota sul PIL meno lo 0,5, stiamo parlando, diamoci un riferimento. perché se partiamo da qua, poi se c'è da trovare dei soldi lì, in qualche modo lì si troverà se mancherà qualcosa. Ma io temo che andare a cercare soluzioni o soldi, eccetera, senza un punto, ripeto, in Parlamento io garantisco per me, non posso garantire per gli altri. io dico ci metto tutta la volontà, se c'è un tavolo governo e regioni che si mette a lavorare così e inventiamo qualcosa, noi facciamo da sponde, noi non ci interessa, non abbiamo, però senza questo, senza la ripresa di un grado istituzionale ben fatto, io credo che la discussione parlamentare diventi molto, anche molto difficile. detto questo, sia chiaro che per quel che riguarda noi, comunque, adesso ci riuniremo, vedremo con i nostri gruppi parlamentari come operare, noi comunque dobbiamo trovare soluzioni di alleggerimento enorme che inneschino il meccanismo di ripensamento sui fronti che qui abbiamo detto e che l'inneschino sul serio. Quindi adesso ci ragioneremo con i nostri gruppi, con chi anche queste cose le conosce e vedremo di dare una mano. Per noi questo è insieme a quello di enti locali, ripeto, più che altro sul fronte sociale, non sul fronte istituzionale che sono delle cose anche buone lì, sto parlando, ci sono un sacco di cose buone in quel decreto lì, le due cose su cui dobbiamo lavorare in particolare salvo altri ammenicoli, è questo di cui mi hanno discusso oggi qualcosa che riguarda gli enti locali, su questo ci concentreremo. Grazie. 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 Grazie.